Nel corso delle prossime ore una nuova perturbazione atlantica attraverserà rapidamente l'Italia con un peggioramento che interesserà il nord ovest. Nella prima parte di questo martedì non mancheranno infatti precipitazioni sparse seppur di debole intensità con anche fiocchi di neve sui settori alpini occidentali a partire dai 1000-1300 metri. Sarà praticamente saltato invece il nord-est salva un po' di variabilità sui settori alpini orientali ma per il resto il tempo rimarrà generalmente asciutto con piogge più probabili soltanto lungo le coste della Romagna. Al centro-sud il peggioramento si avvertirà maggiormente dal pomeriggio sera, anche in questo caso non mancheranno delle piogge distribuite regolarmente ma anche locali temporali più probabili lungo il versante tirrenico. Notate abbiamo indicato fenomeni deboli, infatti le precipitazioni in generale saranno di debole intensità e con distribuzione irregolare.